Un inizio anno in salita per l'intero settore agroalimentare molisano, chiamato a fare conti con vecchie e nuove problematiche, dagli aumenti record dei costi di produzione all'emergenza pandemica, passando per l'irrisolto problema della fauna selvatica. A tutto ciò vanno aggiunti anche i rapidi cambiamenti climatici e dello scenario internazionale che impongono un deciso cambio di passo. Ad affermarlo è Coldiretti che ha evidenziato la situazione particolarmente delicata per le aziende agricole e zootecniche della regione. Nell'immediato, ha spiegato il direttore di Coldiretti Molise, Agnello Ascolese, occorre garantire la sostenibilità finanziaria delle nostre aziende e delle stalle per fare in modo che i prezzi riconosciuti ad agricoltori e allevatori non scendano sotto i costi di produzione, in fortissimo aumento per effetto dei rincari delle materie prime, anche alla base dell'alimentazione degli animali. Con l'arrivo del freddo e dell'inverno, poi, aggiunge Ascolese, il consumo e il conseguente costo dell'energia sta salendo in maniera esponenziale, facendo gravare il suo peso su tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione alla trasformazione fino alla distribuzione dai trasporti. La soluzione, secondo il direttore di Coldiretti Molise, potrebbe giungere ad accordi tra agricoltura, agroindustria e distribuzione. Bisogna puntare sui contratti di filiera per rafforzare i rapporti tra agricoltori e trasformatori, sostenendo così il vero Made in Italy ed il Chilometro Zero, che sempre più consumatori cercano ed apprezzano, come testimoniato dal successo dei mercati di Campagna Amica, tra cui quelli di Campobasso e di Sernia. Da non sottovalutare nemmeno l'importantissima partita che si gioca sul campo delle energie rinnovabili. Sul fronte della logistica servirebbe invece potenziare, ma nel caso del Molise sarebbe più corretto dire creare, polemizza il direttore Ascolese, infrastrutture di collegamento, specie nelle aree interne a rischio isolamento e spopolamento, con il conseguente impoverimento socio-economico di aree dotate di grandi potenzialità non solo produttive. Un caso su tutti, basti pensare alla frana di Castelpizzuto e alle enormi difficoltà riscontrate dalle aziende della zona. Come se tutto ciò non bastasse, non va dimenticato l'irrisolto problema dell'aumento incontrollato dei cinghiali, che sta provocando ormai da anni ingenti danni alle aziende molisane. A tal proposito, col direttimo Molise si dichiara pronta a costituirsi parte civile nei confronti di chi, a partire dal livello nazionale, non ha saputo gestire correttamente la problematica del proliferare degli ungulati e di chi ha avuto la responsabilità di farla degenerare. Grazie a tutti.